Ciao a tutti, oggi facciamo imparare insieme come costruire sensori Loconet con Arduino Sensori sono sicuramente tra gli elementi essenziali per un gestione automatico o semi-automatico di una ruota moderna. Il loro lavoro è informare la stazione comunale o il software che controlla il layout quando certi eventi succedono. Le azioni possono essere associati con questi eventi o la decisione possono essere fatta. Facciamo un paio di esempi. Un sensore, posato al prossimo a crossa di livello, può informare il software della presenza di un treno. Il software, poi, avendo ricevuto l'informazione, può mandare un commento al decoder che controlla il livello di crossa in modo che aumenta la barriera. Un sensore che invece controlla la traccia di una stazione può informare il software che questa traccia è già occupata da treno, in modo che, in definire l'entrata dell'entrata di un altro treno che arriva, il software chiede una strada di destrazione diversa. Questi esempi rendono noi capire che ci sono due famiglie di sensori per la deteczione di treno. Sensori di sensori di blocchi Sensori di sensori di locazione I primi hanno la task di identificare la presenza di un treno in una seczione di treno chiamati blocchi, mentre i lati sono attivati quando un treno è in un punto specifico della traccia. Un sensore digitale è diventato in tre elementi logiche. Un sensore che mesura alcune quantità fisiche Il microcontrollore che riceve i dati dal sensore comprende se un treno è presente e poi senta l'informazione sul bus La interfaccia di comunicazione al bus Abbiamo già un Arduino come microcontrollore e l'interfaccia di loconet sviluppata nel tutorial precedente Dobbiamo ora capire qual sensore usare per detecere il treno Ci sono diverse possibilità Possiamo usare un sensore che detecere il passaggio di corrente Questa tecnica è ampiamente usata in sensori di blocchi Per mettere il sensore sul ruolo che attenzia il blocchi possiamo capire se c'è qualcosa nel blocchi che consuma corrente Il decoder digitale presente nel locomotivo sempre absorve una minima quantità di corrente Questo ci permette di detecere il treno anche se il treno è stationale e avviciniamo Per sensori di locazione possiamo invece adottare il barriere classico Infrared Se il barriere è interrompato sappiamo che un treno lo crossa Alternativamente Possiamo usare un sensore di proximità che detecchino la presenza dei metalli o ascoltare le scuole che sono attivate da piccoli magneti posizionati sotto il locomotivo o un wagon Qualcuno di questi sensori ha i suoi pros e cons Un aspetto importante da considerare per questo sensore che sono posizionati direttamente sul modello è come asserirli Una volta la tecnologia che è stata chiusa dobbiamo capire come mandare le informazioni alla stazione di command o al computer La specificazione di loconet necessita che ogni sensore sia assicurato una specifica numerica da 1 a 4096 Ogni sensore ha solo due dati attivo e inattivo La biblioteca di loconet per l'Arduino offre un metodo per mandare il status del sensore report sensor che ha i parametri l'addressa sensore e il suo status 0 per inattivo o 1 per attivo Proviamo a provare un sensore blocco Per dettagli il flusso corrente userei questo sensore è è un piccolo trasformer se avviciniamo un cibo elettrico intorno il flusso il flusso generato il flusso generato dal sensore se il flusso il flusso è proporzionale al flusso secondo l'alto di pin a0 e in caso questo è greater than 0 quindi il sensore ha detecuto un corrente si senta il messaggio di sensore sul bus loco a0 several times e calcolare l'alto semplicemente lascio il link al codice completo nella descrizione vediamo se il nostro primo sensore funziona ho connesso un output della stazione direttamente alla traccia test l'ultima output sull'altra l'altra parte è avvicinato il trasformerlo prima di essere collegato all'altra rile della traccia il sensore è collegato all'Arduino e questo ancora usando l'interfaccia connesso all'innovazione della stazione connesso connesso posso vedere il status del sensore a questo momento non c'è un treno di la traccia e quindi il sensore è in libero o in attivo se posiziono il locomotivo vedete che è correttamente detecuto da Arduino e il status di sensore cambia ad attivo o busy come un test ulteriore rilasco il locomotivo e il sensore rilasco al suo stato libero tutto parecchio come aspettato anche possiamo fare un sensore ho scelto di provare il sensore VL53L0X che è capabile di mesurare la distanza ad un obiettivo con un pulso corto il sensore può essere connesso ad arduino via l'interfaccia già disponibile sulle bordi di sviluppo come questa l'idea è di posizionare il sensore alla fine del traccio così che sia possibile stopare il treno in una posizione per collegare il sensore all'Arduino necessitiamo 4 cibili collegare le pinze del sensore alle pinze del 5V dell'Arduino e le pinze SDA e i pinze del sensore all'equivalente arduino per comunicare con il sensore useremo la biblioteca di PoloLoo come sempre disponibile nel manager di biblioteca il testo è simile con il sensore dopo importare le biblioteche inizializziamo in l'installazione poi nel luogo interrogiamo il sensore e se la distanza all'obiett è meno di una certa distanza di 5 cm nel mio caso sette di 5 cm mandiamo l'informazione dell'attività sul bus loconet al contrario se la distanza è più di 5 cm mandiamo il sensore in messaggio attivo per evitare che se l'obiett è esattamente 5 cm il sensore continua a cambiare ho definito un'area in cui il sensore non cambia l'estate tecnicamente questo è chiamato morto torniamo torniamo al nostro test ho riempito il sensore con il sensore e lo metto in fronte del locomotivo se muovo il locomotivo come potete vedere quando si approccia meno di 5 cm dal sensore l'attività è sentita se muovere il sensore diventa inattivo per questo esempio voglio anche mostrare come gestire il sensore con il modulo di panel del software jmri già configurato per comunicare con la mia stazione commanda la prima cosa che fare è registrare il nuovo sensore nella tavola sensore aggiungere un nuovo sensore indicare l'attività anche e potete anche specificare un nome per esempio sensore se vuoi vedere il status del sensore tutto ciò che deve fare è ottenere un pannello come tipo sb 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 la connessione è loconet il pannello mostra il status dei primi 24 sensori anche vostri muovendo il locomotivo il sensore si attiva o si attiva secondo la distanza del locomotivo dall'anno possiamo anche implementare una semplice automazione voglio il locomotivo stop se il sensore si attiva per farlo prima devo scrivere un scritto semplice che prende il controllo del locomotivo con l'address 3 e impostare la velocità a zero per linkare la esecuzione con il status uso la funzione di logica di JMRI aggiungo una nuova automazione condizione la condizione è che se il sensore è attivo poi eseguire il script stop loco scripta Let's try if everything works. On the monitor you can see the status of the sensor, the control of the locomotive and the script log. I move the locomotive using the command station. As you see, as soon as the sensor is activated, JMRI runs my script, which sets speed to zero. I'll show you another time. In conclusion, today we learn how to make Loconet sensors with Arduino. The use of sensors is essential if you want to manage traffic using block logic, or if you want to activate actions, such as stopping a locomotive or lowering a level crossing bar, based on what is happening on the layout. Thanks for watching. If you like this video, I'll put other tutorials from the series in this final screen. Have fun and see you soon with a new video.